Stiamo andando a fare per la prima volta una nuotata seria senza bambini. Andiamo là, superiamo e poi torniamo indietro. Ce la possiamo fare? Sì. L'ultimo pezzo fatto, siamo arrivati. Adesso c'è l'altro pezzo, non si può capire. Uno, via! Ci siamo per ripartire. Allora, siamo arrivati là, alle acque verdi. Cioè, ancora ci dobbiamo arrivare. Questo è il faro. Oh, però d'acqua quanto è bello. C'è anche raggiù. Ok, ce l'abbiamo fatta in un'ora e venti. Abbiamo fatto andata e ritorno e anche chianchierata con gli amici dello sbarcatore. E video all'acqua verde. Video all'acqua verde, sott'acqua. Soddisfazione a mille.